Tiro a segno, bersaglio centrato, missione compiuta. Si chiama Laura Cuomo, ha 14 anni e viene da Pozzuoli e con 537 punti totalizzati si è classificata prima ai campionati italiani indoor di tiro con l'arco. È successo lo scorso 21 febbraio ai campionati nazionali di Rimini a seguito di una gara emozionante che l'ha vista in testa dalla sesta alla sessantesima freccia superando di un solo punto Aiko Rolando e di ben quattro punti la terza classificata. Luna Menagotto, la giovane atleta puteolana, si è misurata con le migliori venti arciere d'Italia conquistando il primo posto ed il titolo italiano. È stato un grande onore per me poter incontrare il sindaco ed essere premata da lui anche per la prima volta. Una grande soddisfazione che premia anche tutti i miei sforzi. Logicamente punto sempre ad andare più in alto possibile. Ringrazio anche la disponibilità dello stadio e di tutti i dipendenti che hanno reso possibile l'organizzazione di oggi. Il prossimo obiettivo sarebbero i prossimi campionati italiani però all'aperto e si spera di arrivare ai livelli giusti. A soli 14 anni Laura è la punta di diamante dell'associazione dilettantistica Arco Puteoli nata soltanto tre mesi fa nella quale si allena e cresce grazie anche all'apporto di due grandi maestri Fiore De Lucia e Salvatore Carandente. Orgoglio flegreo Laura ha ricevuto i complimenti della presidente dell'associazione e del presidente della commissione sport di Pozzuoli Salvatore Cagliazzo. Presenti quest'oggi è la cerimonia di premiazione voluta dal sindaco Vincenzo Fiolia e avvenuta questo pomeriggio alle 16 presso lo stadio Domenico Conte. Momento importante, sono qui insieme all'assessore Arteaco per premiare la ragazza che ha portato il lusso della città di Pozzuoli in alto con i campionati italiani della sua categoria, spero che ci siano altre opportunità del genere perché quando si porta il nome della propria città a livello nazionale è sempre motivo di orgoglio e di soddisfazione da parte di tutti noi che abbiamo il piacere di rappresentare la città di Pozzuoli. Una vittoria che riempie di orgoglio la cittadina flegrea per un titolo che si spera possa essere il primo di una lunga serie non solo per Napoli ma per tutta l'Italia. Grazie